Buonasera a tutti e benvenuti alla consueta diretta. Oggi è mercoledì 27 maggio, naturalmente per un riepilogo sulla situazione dell'emergenza sanitaria nel comune di Novi di Modena e sulle iniziative locali. Oggi parliamo in particolare dei centri estivi. È stato approvato il protocollo regionale per la riapertura in sicurezza dei centri estivi in Emilia-Romagna, centri estivi destinati ai bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni. La regione ha dato il via libera a questo documento che verrà poi recepito dalla consueta ordinanza e abbiamo un filo conduttore comune nelle regole che sono contenute in questo documento, appunto è la garanzia della massima tutela della sicurezza e della salute dei bambini, dei ragazzi, degli educatori e delle loro famiglie. Fra le principali misure previste che verranno adottate sono lo svolgimento di attività, preferibilmente all'aperto, organizzati in piccoli gruppi e seguiti dagli stessi educatori, cercando di evitare di mescolare i gruppi tra di loro, la necessità di entrate e uscite scaglionate con un triage, una verifica dello stato di salute all'ingresso sia dei bambini che degli educatori, di tutto il personale, l'attenzione direi quasi maniacale alla pulizia, alla disinfezione costante degli ambienti e dei materiali. Domani pomeriggio incontreremo le associazioni del territorio che si sono rese disponibili a valutare l'apertura appunto dei centri estivi sul nostro comune e inizieremo insieme questo nuovo percorso, vorrei sottolineare in un clima di completa collaborazione al fine di poter promuovere servizi omogenei e integrati che possano offrire il massimo aiuto e sostegno alle famiglie che stanno ricominciando a lavorare, che sono impegnate magari anche durante tutti i mesi estivi per cercare di recuperare questo periodo di lockdown che ha causato appunto delle interruzioni nelle attività economiche in modo da poter riprendere una fetta di bilancio di quota di mercato. Quindi nella diretta di venerdì magari vi potrò dare ulteriori informazioni su come si svolgeranno questi servizi. Parliamo anche di attività culturali. Per il momento lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche sarà consentito soltanto in forma statica a condizione che appunto nel corso di queste manifestazioni, di questi eventi culturali, vengano rispettate le distanze sociali e anche prescritte le altre misure di contenimento in vigore. Dal 15 giugno quindi sarà possibile effettuare spettacoli con la presenza di pubblico anche in sale teatrali, in sale da concerto e naturalmente in tutti gli spazi all'aperto, comprese anche le proiezioni cinematografiche, si potranno svolgere con posti a sedere preassegnati e distanziati a condizione che sia comunque, dicevo, rispettato il vincolo della distanza. Almeno un metro per il personale, per gli spettatori, con un numero massimo di 200 spettatori per gli spettacoli nei luoghi chiusi e di 1000, se l'area naturalmente lo permette, all'aperto. Restano sospesi tutti quegli eventi che non consentono di rispettare le distanze, le attività di ballo, quindi discoteche, locali all'aperto o al chiuso che appunto organizzano questo tipo di attività, le fiere e i congressi. Già da adesso nelle sale teatrali del concerto è consentito svolgere le prove in preparazione di questi spettacoli e come Comune di Novi stiamo facendo delle valutazioni interne anche con il nostro referente della sicurezza per capire in che contesto ci potremo muovere ed in seguito abbiamo intenzione di incontrare le associazioni culturali insomma del territorio che erano abituate ad un'offerta di qualità per tutti i mesi estivi per valutare insieme la possibilità di condividere un eventuale calendario di eventi per tutta per la parte possibile dell'estate. Vi do notizia questa sera anche della riapertura delle casette dell'acqua, in particolare la casetta di Novi di Modena e con un nuovo look e alcune migliorie funzionali la casetta di via Canzio Zoldi appunto è stata riaperta e sulla struttura sono state indicate chiaramente le nuove regole igieniche per poterla utilizzare in sicurezza quindi la necessità di utilizzare i guanti, la mascherina, il gel per le mani, di mantenere il distanziamento così potremo consentire un uso della casetta ancora più sicuro per tutti. Vi comunico anche la riapertura del servizio di ricevimento dei servizi sociali a Rovereto tramite appuntamento nella consueta giornata del mercoledì quindi previo appuntamento sarà possibile incontrare gli assistenti sociali nella sede consueta di Rovereto presso la casa della salute dalle 9 alle 12 mi raccomando sempre per appuntamento. Vi ricordo nuovamente la rimodulazione del servizio del numero unico che per quanto riguarda la spesa sarà attiva come chiamate solo nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 perché le richieste non sono più così consistenti quindi è stato deciso appunto di rimodulare il servizio pur garantendo comunque l'effettuazione di queste consegne gratuite a domicilio. Per quanto riguarda la situazione sanitaria per fortuna rimane sotto controllo la situazione anche in provincia oggi abbiamo solo un ulteriore contagio quindi siamo di nuovo vicinissimi allo zero sul nostro territorio ad oggi 27 maggio sono sei i contagiati in particolare sono cinque a domicilio e uno ancora ricoverato all'ospedale sono due le persone in isolamento fiduciario quindi numeri assolutamente contenuti ma questo non vuol dire che dobbiamo mollare la presa nel rispetto delle indicazioni delle chiaramente prescrizioni che stiamo cercando di vivere correttamente in questo periodo. Nel salutarvi questa sera vi do un'ultima informazione che riguarda il calendario delle dirette che ormai effettuiamo da alcuni mesi il prossimo appuntamento sarà venerdì 29 maggio e poi dalla prossima settimana mi collegherò solo per aggiornamenti su temi particolari su notizie importanti o su comunicazioni di necessità quindi non saranno più programmate le dirette nei consueti giorni di lunedì mercoledì e venerdì e spesso anche al sabato ma usciremo con le informazioni quando ci sarà la necessità ci tengo anche a ricordare che proprio da questa settimana ieri e oggi è ripartito il ricevimento il mio orario di ricevimento sempre su appuntamento quindi prenotando il centralino del comune verrà concordato il giorno e l'ora dell'appuntamento martedì dalle 9 alle 12 a 9 e il mercoledì dalle 9 alle 12 a Rovereto. Vi ricordo che per Rovereto abbiamo dovuto spostare la sede del ricevimento e sarà presso la sala civica De Andrè anziché il centro servizi per dare la possibilità diciamo di essere ricevuti di incontrarci in sicurezza. Quindi dalla prossima settimana ci vedremo meno spesso in via telematica a distanza ma se lo riterrete opportuno ci potremo poi vedere di persona vi ricordo suo appuntamento. Vi aspetto quindi agli incontri diretti col sindaco. Mando un caro saluto a voi e ai vostri cari e ci vediamo per la prossima diretta dicevo appunto venerdì 29 con il consueto al consueto orario delle 18 e 30 circa sulla mia pagina e teniamo botta. Buona serata a tutti ciao